Siamo con Matteo Pastorino, responsabile vendite Daikin Transport Refrigeration. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Allora scopriamo quali sono i prodotti in mostra qui allo stand. Allora abbiamo portato il Daikin Exigo, gruppo verticale per il semirimorchio, che è l'ultimo nato in casa Daikin per la Transport Refrigeration, con l'obiettivo appunto di entrare in questo segmento di mercato. È un prodotto molto performante, con 15 kW di potenza sia in modalità strada che in modalità rete, una telematica bidirezionale, quindi ha tante cose molto interessanti per il mercato e per i nostri clienti. Dopodiché abbiamo la famiglia Uno, quindi unità refrigeranti autonome diesel, che possono essere alimentate anche dall'HVO, con HVO, che sono state perfezionate e messe a punto riprendendo il progetto da notti e quindi riproporremo, stiamo riproponendo sul mercato Italia. Poi abbiamo i nostri cavalli di battaglia, l'SFZ 238, 248, per i frugoni con cella, prevalentemente. E abbiamo poi, fulcro di questa fiera, l'elettrificazione della gamma della famiglia Zero. Matteo, sappiamo che la vostra realtà è in continua evoluzione, allora qual è in questo momento la struttura e soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano? Daikin ha affidato ad HT Cooling System in Italia le operation di vendita e post vendita, quindi assistenza e ricambi. Quindi HT si pone come l'interfaccia per il mercato italiano.